Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e siamo tornati su un nuovo episodio di Minecraft, siamo tornati con la webcam, con l'audio e con tutto quanto signori allora, continuiamo con questa sorta di serie, di film che ho deciso di iniziare, in cui veramente io gioco e vi lascio tutto, nei video precedenti c'era solamente il video con la canzoncina di sottofondo ora vediamo un attimino di riorganizzarci oh che è scelto un albero, che magia, io parlo e che sono gli alberi, che cosa sono di io? va bene, basta, signori, cosa stiamo dicendo? che praticamente è una sorta di serie in cui io gioco, lasciando tutto e facendolo vedere, facendoli fare due palle quanto una casa però il bello è anche questo, è stressarvi per chi segue i video, per chi non li segue, non si stressa, sta tranquillo e continua la sua vita e continuano ad essere video di 5 minuti, quindi a un certo punto a 5 minuti si taglierà il video di botto perché io registrerò a palla e poi taglierò proprio dei video brutti, signori, perché bisogna inaugurare i video brutti basta con questi youtuber che fanno i video perfetti, tutti brutti, basta oh, allora signori, che dirvi? rispetto al video di ieri, che non ha visto nessuno, c'è un salto temporale nel senso, io ho continuato a giocare, ho fatto delle costruzioni che ora vi farò vedere ovvero, vi faccio vedere com'è cambiata la nostra casa la nostra casa è diventata così una cagata terribile però, allora, perché? Perché questa cagata terribile? specifichiamo perché praticamente la modalità l'idea di questa serie è quella di fare un grattacielo enorme in cui all'interno ci sia tutto quello che ci può essere praticamente mi manca il fiato, non ci sono più piuttosto in cui abbiamo tutto quindi noi continueremo a salire fino a quando all'ultimo piano, che non so quale sarà andremo a costruire il portale del nether come se fosse tipo l'occhio di Mordor come si chiama? Mordor, quello del signore degli anelli di Mordor? boh, non lo so e mi correggetemi nel video, anche se non lo guarderete questo video, però va bene e quindi così quindi intanto vi faccio vedere come sta procedendo la costruzione allora, abbiamo a pieno terra la porta non si apre, ok abbiamo a pieno terra, abbiamo la zona di smistamento, diciamo la zona di lavoro, con lettuccio qua sotto c'è la nostra bellissima miniera che tra l'altro abbiamo trovato anche un dungeon quindi un giorno di vista andremo a esplorarlo ma attualmente ho poche risorse, signori c'ho solo 20 di ferro poco carbone, quindi ancora non siamo attrezzati per la grande giuita a primo piano, signori, abbiamo la zona magazzino in cui abbiamo tutte le casse da questa parte qui qualcuna già è bella, piena e cipposa di materiali che poi dovremo andare a sistemare qua ci sono altre casse e qua dovremo fare un altro giro di casse purtroppo sopra non le posso mettere perché dovrei mettere mezzi blocchi per poter far aprire le casse lì ora vediamo, è una modifica che dovrei andare a fare, dovrei fare tutto un giro di mezzo blocco in modo tale che le casse si possano aprire vediamo, se un domani dovesse servirmi lo faccio perché però non lo faccio? perché a piano superiore, signori, abbiamo la zona polli eeeh! abbiamo anche il mangiare, signori abbiamo tre polletti no, sono quattro sì, sono quattro polli vediamo se ne nasce un altro scusa, zio ti metti in mezzo ok non è nato nessun pollo però i polli a fianco hanno la farm di grano così io posso prendermi benissimo i semetti intanto seminiamo, se no non cresce più un cacchio possiamo no, dovrebbero essere pochi i polli sono tre, no? sono due quelli grandi a posto passiamo di qua dove sono quelli per riprodursi perfetto mangiate come se non ci fossero domani te, te lo do pure perché non c'ho voglia di portarmi i semi dietro perfetto tieni, te lo dati due è nato il polletto sì, signori la farm di polli cresce allora poi qui ci sarà dove cazzo sarà? qui in maniera molto brutta effettivamente sarà molto brutta la scala qua perché con la porta qua la scala qua è un gran problema qui ah sì, qui per saltare ho dovuto fare mezzo blocco e sì, qui la scala sarà un bel problema dovremmo farla in qualche altra maniera va bene ma non è il problema di oggi in questa serie di video che usciranno in questi giorni che sto registrando ora noi dobbiamo o intenzione di portare anche le mucche però, signori le mucche farle salire fino alla sopra le galline mi sono portato scusatemi è salito l'acido mi sono portato una botta di uova e ho spammato le uova fin quando non sono cresciute no, sì, cresciute le galline crescono le galline crescono però principalmente nascono se non nascono non possono crescere e quindi che stava a dire? non lo so va bene e quindi cosa facciamo? le mucche le mucche perché noi siamo intelligenti signori le mucche le andiamo a mettere qui qui? le mucche le andiamo a mettere qui